A dieci anni dall'istruzione della Dignitas Connubi, nata per la trattazione delle cause di nullità di matrimonio nei tribunali diocesani e interdiocesani, Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti al convegno internazionale che si è tenuto alla Pontificia Università Gregoriana. Una presenza numerosa afferma che la risposta generosa alle sollecitazioni che ogni autentico ministro dei tribunali della Chiesa sente per il bene delle anime. Francesco evidenzia l'importanza della Dignitas Connubi, un vademecum che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme. Sicuro perché chiara è la meta, la certezza morale, celere perché cammina più veloce, dice il Papa, chi conosce bene la strada da percorrere. Tale istruzione potrà in futuro aiutare anche ad abbreviare il percorso processuale, spesso percepito come lungo e faticoso. Pertanto non si possono escludere ulteriori interventi legislativi per un processo privo di formalismo. Apporto originale, secondo Francesco, è quello del difensore del vincolo nel processo matrimoniale, la cui presenza consente favorisce l'imparzialità del giudizio del giudice, ponendo in rilievo sia gli argomenti a favore, sia quelli contrari alla dichiarazione di nullità del matrimonio.